Buon pomeriggio amici ascoltatori e bentrovati da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma. Settima giornata di Serie D, girone F. Si affrontano Trastevere, Aurora, Alto, Casertano. Arriva il fischio dell'arbitro, la finta di Amabile. Poi Mancino, il pallone arriva ma è largo alla sinistra di Semprini che lascia scorrere. Mi metto Cervoni davanti a sé, Crescenzo, Cervoni si mette in proprio, mette il cross col tacco Monni, Proia al volo. Col destro a cercare Monni, poi Sannipoli cambia tutto, Corsetti si inserisce, Proia, Corsetti si mette in proprio, vuole andare a calciare. Lo fa, sbatte su un avversario, ancora buono il pallone, Corsetti! Fuori di un soffio. Massimo, Proia vicino a lui Corsetti, Proia prova a partire da solo, eccolo nel passaggio, ha perso il numero 10, va a sfidare Tia, Corsetti pensa al tiro, poi invece va per via centrali tutto di prima. Proia il tiro questa volta, impreciso però, del numero 11 che si dispera. Raggiunge il pallone, prova a lanciarsi da solo, poi col tacco lo lascia per Cuoco, al limite dell'area di rigore per Cuoco, il pallone al centro, Semprini! Il miracolo su Fioretti per la sua strada, poi adesso alza la testa, allarga tutto col destro, splendido il pallone, raccolto in zona d'attacco. Attenzione al cross che arriva a cercare Sannipoli, il colpo di testa è di Monteleone su cui Cusmanovic è bravo a bloccare. Tino solo per un attimo però, attenzione a Bianchi che carica il destro, Semprini, Laurenzi con le mani, profondo, Monni prova a girarla, arriva Corsetti in area di rigore, ancora Corsetti, i dribbi, il destro e il palo! E poi Sannipoli, alto! Di testa ancora, poi destro in profondità, si impegna Monni per arrivare sul pallone. Raccolto però proprio da Proia, porta avanti la sfera, è il numero 11, si allarga, vorrebbe andare al cross, lo effetto adesso, Crescenzo! Segna sempre lui, Daniele, Crescenzo, vantaggio tra Stevere! Che prova ad andare via, Massimo non riesce a bloccare l'azione, allora Fioretti carica il destro, Fioretti! Sannipoli riesce ad arrivare sulla sfera, ha visto Corsetti sulla tre quarti, Corsetti ha pensato per un attimo al tiro, poi salta due avversari, Corsetti! Sull'avversario, Sannipoli prova ad arrivare sul pallone, riesce a farlo, ancora Sannipoli, l'ingresso è di Proia, che calcia, Kuzmanovic! Invoca il pallone Sannipoli, invece la sventagliata dall'altra parte a cercare Corsetti, lo stop del numero 10, che poi ha visto Proia, lo serve, Proia può andare al cross, arriva adesso il pallone, Kuzmanovic smanaccia! Poi Sannipoli, la sfera che rimane lì, il tiro, ancora il salvataggio sul tentativo di Monni, che in qualche modo arrivare sul pallone, Crescenzo, il pallone toccato da Corsetti, poi c'è Monni! Fischia il direttore di gara, parte amabile, il pallone sul secondo palo, tutti a vuoto, palo poi Semprini, incredibile occasione! Deve impegnarsi per tenerlo in campo, lo fa, attenzione, ancora Crescenzo, va via, il numero 8, serie di finta, poi il pallone che arriva, viene però raccolto dalla difesa, ancora Crescenzo, finisce giù, calcio di rigore, calcio di rigore per il Trassevere! Fischia Restaldo, il destro di Simone Monni, Kuzmanovic! Ancora splendidamente, Corsetti, va via il numero 10, ancora Corsetti, porta la sfera, largo c'è Sannipoli, Corsetti si ferma, serie di finta, ancora Corsetti, Eccolo il pallone, verso Sannipoli, in area di rigore, glielo sporcano in calcio d'angolo! Laurenzi, pallone profondo, Proia può lanciarsi, il pallone arriva al numero 11, ancora Proia, dentro verso Monni, e su questo rilancio arriva il triplice fischio del direttore di gara, torna alla vittoria il Trassevere, lo fa vincendo 1-0 sull'Aurora Alto Casertano!